Prima di proseguire con il video, ricordati di iscriverti al canale ed attivare la campanella per le notifiche. Grazie. Le ultime notizie provenienti da Trieste ci parlano della scomparsa di Liliana Resinovic, 63 anni, avvenuta il 14 dicembre 2021. Ma aspettate, non tutto è come sembra. Il 5 giugno 2023, la procura di Trieste si appresta a esaminare le opposizioni all'archiviazione presentate dai familiari e dal marito di Liliana. Se pensavate che questa storia fosse vicina alla conclusione, pensateci due volte. Da fonti affidabili, sappiamo che ci sono voci di una possibile archiviazione dell'inchiesta. Ma attenzione, c'è spazio per un colpo di scena. Claudio Sterpina, con la sua voce ferma, ha detto che una protesta sarebbe necessaria in caso di archiviazione. Ma non tutti la pensano così. Sebastiano Vicentin, ospite di quarto grado, ha annunciato che non parteciperà all'eventuale Ha condiviso la sua esperienza di vita con Liliana, descrivendo 32 anni meravigliosi passati insieme. Secondo lui, la giustizia ha fatto il suo corso e la procura ha svolto il suo lavoro, esaminando ogni possibile dettaglio. Ha concluso dicendo, se emerge qualcosa di veramente significativo che può fornire delle risposte, sono pronto. Tuttavia, non parteciperò a queste sceneggiature. Non perdere questo dramma legale in corso. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti su questa storia intrigante.